Ciao a tutti ragazzi, oggi recensione di un atomizzatore da 22 mm, stiamo parlando del The Flav 22 Titanio in edizione limitata di Alienstech Vapor. Adesso andiamo a vederlo un attimino da vicino, e poi due svapate e due considerazioni come al solito, ma vi anticipo già da subito che è una bomba! Questa è la confezione in cui ci arriva il The Flav 22 Titanio Limited Edition di Alienstech Vapor, confezione in cartone rigido molto semplice, senza scritte, senza nient'altro. Sono presenti appunto soltanto i loghi e le diciture sulla parte superiore, la scatola ha una calamita, andiamo ad aprirla e troviamo tutto molto ordinato. Abbiamo il pin non bottom feeder con il suo o-ring, abbiamo l'atomizzatore ed abbiamo un drip tip in materiale plastico. Di serie montato c'è quello in titanio come l'atomizzatore. E tutto qui, non abbiamo altro. Questa parte si rimuove, ma sotto non è presente nulla a parte le spare parts che sono le classiche. Abbiamo un set di o-ring, due, quattro, sei o-ring di tre dimensioni differenti, e due viti che sono appunto quelle delle torrette in cui serreremo i fili. Possiamo richiudere, mettere via, andiamo a montare l'atomizzatore, non prima di averlo visto brevemente, è molto ben fatto. Sul fondo troviamo la scritta Adesso l'atomizzatore, voi lo vedete già buildato perché lo sto appunto utilizzando. Spero che non infici nella recensione del prodotto, l'atomizzatore è tutto in acciaio, molto ben fatto. Il pin prima non l'ho fatto vedere ma è placato oro, per fortuna non è stato utilizzato l'ottone. Io ho già montato sul pin BF Le viti per serrare i fili sono a taglio filetto molto ben fatto, molto grande, quindi si riescono a serrare molto bene tutti i tipi di filo. Naturalmente la coil andrà montata con una gamba da questa parte e una gambetta da questa parte. L'isolatore, che non si nota per via della luce, è molto ben fatto, molto spesso. Qui troviamo il numero seriale, visto che è un'edizione limitata, questo è il numero 245. Io l'ho buildato come faccio sempre con tutti i single coil centrale, per quanto riguarda gli atomizzatori da 22 da Flavor. Questa è una semplicissima parallel, 5 spire di Nikron, 80, 26 gauge, su punta da 3, cotone, Angor Rabbit. Il cap secondo me merita di spenderci due parole perché è molto ben fatto, veramente molto ben fatto. Lavorazione precisa, pulita, l'effetto satinato mi piace molto, ma oltre a ciò che riguarda l'aspetto visivo funziona molto bene. Qui sul tip notiamo i due O-ring che tengono in posizione il tip all'interno del cap. O-ring in generale ottima tenuta, la giusta presa per aprire e chiudere il cap. Il tutto funziona molto bene, è semplice, studiato bene, i fori dell'aria mi piacciono molto, sono delle giuste dimensioni, si riesce a far rimanere la coil in modo che prenda aria da entrambe le parti senza troppi problemi. Una cosa che per poco mi dimenticavo di fare presente, mi piace molto il fatto che la vasca sia profonda. Durante la sconcata io posso far tranquillamente arrivare il liquido fin sopra la resistenza, come ho fatto adesso, che dai fori dell'aria non uscirà nulla perché i fori sono leggermente verso l'alto, non sono dritti. Quindi anche ad una sconcata eccessiva, quando con altri atomizzatori ci avrebbe pisciato fuori, con questo non accade. E questo è un altro punto a suo favore perché spesso ci concede di sconcare senza dover aprire il cap per guardare, di non allagare tutto quanto. Altra cosa molto positiva secondo me. Allora, l'ho acquistato circa 15 giorni fa, il giorno dell'uscita, e da quel giorno lì non l'ho più mollato. Aromaticamente è fantastico, nonostante come abbiamo visto prima l'ho buildato con una semplicissima parallel di nicromo 80, 26 gouge, 5 spire, su punta da 3, cotone, angorabbit. Quindi niente di speciale, nonostante settimana scorsa mi sono recuperato anche le coil apposite GV build studiate apposta per il deflave. Quindi abbiamo una bella coppia, quindi possiamo poi fare un bel po' di prove. E se tanto mi dà tanto, come è stato per l'adaly, che avevo in primis buildato allo stesso modo, con la stessa parallel e mi piaceva, una volta provata la coil appositamente studiata di Giuseppe Volp, GV build, l'atomizzatore è diventato una bomba. Io non oso pensare cosa può diventare questo deflave da 22 mm con quella resistenza lì. Già così è fantastico, non lo mollo un attimo, veramente ce l'ho sempre su ed è micidiale. Oltre alla restituzione aromatica veramente eccellente, non scalda assolutamente per nulla. Io la stessa build l'ho provata anche in altri atomizzatori, sempre da 22, sempre single coil centrale. E alcuni di loro tendono a scaldare un attimino, questo titanio invece no. Anche se uno tira in modo compulsivo, si fa quei 10-12 tiri che concede il cotone prima di dover sconcare nuovamente, non scalda assolutamente, quindi l'aroma è sempre al top. Io non sono qui a dirvi di comprarlo o meno, anche perché essendo comunque un articolo che ha il suo costo, perché siamo intorno tra le 120 e le 130 euro per l'acquisto, essendo che comunque non si trova facilmente, dovete valutare voi se può essere un atomizzatore che fa per voi o meno. Io, una volta provato questo, molti altri che ero tentato di acquistare li ho lasciati in disparte, perché credo di aver trovato per adesso il top. Forse, forse potrebbe essere che, se mi capita, ne prenda un altro. Questo sì, perché, ripeto, è veramente ottimo. Sia che si utilizzi il tip in titanio, che si utilizzi quello in plastica, non cambia assolutamente nulla. Io spesso utilizzo quello in plastica nera solo per la combo nero-silver-nero-silver-nero, ma altrimenti va benissimo anche questo ed è ottimo. Facilità di rigenerazione. Prese dell'aria fatte veramente bene, io le tengo totalmente aperte, perché comunque non sono troppo generose. Che altro dire, ragazzi? Un atomizzatore spettacolare. Io il 24 mm, il Deflav da 24, non l'avevo potuto provare, perché quando mi ero convinto di acquistarlo non si trovava più, era esaurito. Questo 22 è veramente, veramente tanta roba. Io non ho altro da aggiungere, con questo vi saluto. Se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qualsiasi domanda, critica, me la potete fare nei commenti, privatamente, su Messenger, come preferite. L'ultima svapata e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!